Il primo campo da baskin del Comune di Udine. Questo parco vuole essere un luogo di socialità positiva per tutti, pensato con i dettami da progettazione universale, quindi veramente un luogo in grado di accogliere, aggiungendo possibilità per tutti senza toglierne a nessuno. Riqualificazione e inclusione sono termini che vanno a braccetto per pensare a un concreto rilancio delle zone più critiche del Comune di Udine che ha concluso il progetto in Parco Salgari, Via del Bon, quartiere est della città, che ha portato alla realizzazione di un nuovo campo da basket e baskin, confermando l'impegno dell'amministrazione nel migliorare la qualità della vita dei residenti e in particolare dei giovani. Uno sport che trae origine dalla palla canestra e ne mantiene lo scopo, ovvero quello di segnare più canestri della squadra avversaria. Il primo campo di questo genere è stato realizzato a Tavagnacco dalla zio Pino Baskin Udine ASD, che ha appena conquistato il titolo di campione d'Italia. La sinergia tra il privato e il pubblico può essere vincente. Abbiamo dimostrato che si può fare, che è bello, che è funzionale, che è socialmente importante dimostrare come l'inclusione può essere trasportata veramente. Gli accessi e gli arredi sono pienamente inclusivi e favoriscono l'aggregazione del vialetto senza barriere architettoniche alle panche con sedute in plastica riciclata che, grazie ad uno sbalzo posizionato lungo un lato corto, consentano a chi è in carrozzina di potersi accomodare facilmente al tavolo. All'evento di inaugurazione hanno partecipato anche le due associazioni che si occupano di promuovere il baskin sul territorio, la zio Pino e la UBC Baskin. Il progetto, con un investimento totale di 80.000 euro, di cui 40.000 finanziati dalla regione Friuli Venezia Giulia, ha trasformato l'area attrezzata esistente in uno spazio inclusivo e moderno. La realizzazione del campo da basket baskin ha incluso la rimozione dei vecchi impianti, la fresatura, il rifacimento della superficie in asfalto e l'applicazione di un nuovo rivestimento in resina, garantendo una superficie di gioco ottimale, già molto utilizzata. La pavimentazione del vialetto di accesso, infine, è stata ampliata e migliorata, garantendo una viabilità agevole e priva di barriere architettoniche. Io tenderei ad uscire un po' dalla retorica che lo vuole come di per sé portatore di valori educativi validi. Lo sport è un ambito neutro. Chi lo rende, cosa lo rende veramente significativo, è il contesto. E lo spazio è in grado di dare la possibilità a chiunque di poter accedere alle discipline sportive, allora lì lo sport è veicolo di valori veramente positivi.